E' la prima volta che vengo in Puglia, mi è piaciuto tantissimo questa maniera di mostrare la Puglia in tutti i suoi aspetti, mi è piaciuto la maniera in cui ci hanno fatto vedere le masserie, abbiamo visto gli animali, la produzione, e particolarmente mi è piaciuto il paesaggio inaspettato, si pensa sempre che la Puglia sia piuttosto aglio, invece il paesaggio è fantastico e mi è piaciuta anche questa idea di masseria con la possibilità di ospitare anche per dormire più persone. Grazie a tutti